Ed oggi la Sidigas Scandone Avellino scenderà in campo al torneo Geovillage, di cui gli Irpini sono ormai protagonisti da anni. La formazione avellinese affronterà questo pomeriggio alle ore 18 la Cagliari Dynamo Academy. Il club del capoluogo sardo, satellite della Dynamo Sassari, partecipa quest'anno al campionato di Serie A2. L'avversaria di turno è allenata da coach Paolini, ex Pesaro, e vede la presenza nel roster di diversi giovani come Mirko Turell, Michele Ebeling e l'ex Siena Lorenzo Bucarelli, argento nell'estate, ai mondiali Under-19 e tra i migliori giocatori del torneo. Ci sono ovviamente anche degli uomini di esperienza, tra questi Marco Bonfiglio, Roberto Rullo e Marco Allegretti. Per la Silicas sarà l'occasione di testare alla seconda giornata le proprie qualità contro avversarie di categoria superiore, come sono Virtus Bologna e Dynamo Sassari, che verranno affrontate nel corso di queste due giorni. Oggi l'appuntamento con i cagliaritani alle 18 e sarà possibile vedere i progressi dei nuovi arrivati, in particolare Thomas Scrubb e Dez Wells.